Giunto alla 44esima edizione, il Meeting di Rimini in quest'anno celebra l'esistenza umana e un'amicizia inesauribile da una frase di Don Luigi Giussani tratta dal saggio Il cammino al vero è un'esperienza. Dal 20 al 25 agosto nella cittadina romagnola si alterneranno ospiti importanti provenienti da tutto il mondo. Ad aprire i lavori il presidente della CEI, il cardinale di Bologna, Matteo Zuppi, mentre a chiuderli sarà il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che nel giorno conclusivo, venerdì 25 agosto, sarà per la seconda volta al Meeting di Rimini. Anche in questa edizione vi sarà una forte rappresentanza del mondo della politica. Dialogheremo come sempre con le istituzioni nel merito dei temi che in qualche modo abbiamo individuato, prima tra tutti il lavoro e poi gli altri temi di attualità. Oltre che di politica si parlerà anche di difesa del creato, lavoro, immigrazione, senza tralasciare le grandi sfide che attendono i prossimi anni dall'intelligenza artificiale al metaverso. La manifestazione si conferma poi ricca di tavole rotonde, mostre, spettacoli e iniziative culturali e verrà anche trasmesse in diretta su più canali digitali e in più lingue. Insomma, un successo che si rinnova di anno in anno. Noi viviamo l'amicizia come sfida reciproca, cioè che ognuno dia sempre il meglio rispetto alle domande che il tempo pone. Ci lasciamo interrogare dalle questioni che la storia presenta anche quando sono drammatiche, ma anche quando sono belle.